In manis orribilisque specus. Stasera il Lazio comincia con strade deserte e villaggi senza una luce, come se un diserbante avesse annichilito ogni presenza umana. La capote fischia nel vento, l'abitacolo è pieno di profumi nuovi. Mi accorgo che senza il mio macinino crivellato di fessure non percepirei nulla della metamorfosi natto. In vista del Gran Sasso, punto di mezzo della traversata penninica, il paesaggio ha assunto colori pastello e oblunghe forme bosniache. Le valli non hanno più l'andatura tosco-emiliana a spina di pesce. I passi di montagna sono diventati forche, nome presago di sventure per le regioni. In soli cento chilometri, l'eremo di Fonte Avellana sembra già un sogno nordico, lontano come Cluny o la Wittenberg di Martin Lutero. Molto era cambiato, già sopra Pioraco, tra Camerino e Nocera Umbra, in un'altra prateria sigillata dai monti, coperta di papaveri e mandrie, dove mi avevano portato Meri e Ulrich, la coppia straniera di Seppio. Il luogo era benedetto da una grotta, introvabile sulle guide, dove il beato Bernardo di Quintavalle, primo compagno di San Francesco, si ritirava in solitudine in vista del Monte Pennino. Ma il grande salto era avvenuto al Passo di Gualdo, quota 1500, improvvisa finestra su pascoli di una bellezza arcadica, lisci come piccoli aeroporti in mezzo alle montagne. Il mio sentiero partigiano aveva arcato una soglia, si trovava in bilico su qualcosa che non era solo lo spartiacque tra i due mari, nell'aria c'era anche qualcosa di oscuro. L'avevo capito sui Monti Sibillini, dallo sguardo sibillino della banconiera dell'hotel Sibilla. Un occhio fenicio, grigio con le pagliuzze d'oro, che, dal fondo di una penombra abitata da risa femminili e profumata di lenticchie e ragù, mi diceva «attento, stai entrando in terre arcane». E anche se fuori, sulla piana di Castelluccio, silenziosi deltaplani volavano su praterie sfolgoranti di sole e neve fresca, tutti intorno posti come il Monte Utero, la macera di morte o le gole dell'infernaccio, mi parlavano di necromancia. Bastavano i loro nomi a dirmi che stavo sfiorando l'orlo dell'abisso. Non era solo la larga e orrenda e spaventevole spelonca nominata caverna della Sibilla, o il vicino lago di Pilato, quello che extendit frigidus undas quem necromanctes nocte dieque petunt. In una vecchia guida del luogo potevo leggere testi medievali pieni di demoni, fate viaggianti, iniziazioni e fantastici voli notturni. Tutto ciò che riguardava quei monti era circondato da tali superlativi, in manis orribilisque especus, altissimis vero in montibus qui predictis opidis e regione respondet summo in appennino, che le parole perdevano il loro senso descrittivo per diventare litania, esorcismo. La Sibilla era solo l'inizio. Entravo in un territorio a suddestra dove l'invisibile prendeva il sopravvento. Dopo le balene volanti e gli elefanti di Annibale incontrati in terra padana, ora si svegliavano caverne e acque sotterranee. I paesi dai fruscianti nomi etruschi, Viesci, Ruscio, Cascia, Pescio, dicevano che altri dei abitavano montagne sorgenti e che i presidi della cristianità, come la Madonna della Neve o Santa Maria in Gallo, erano messi lì solo per tenerli a bada. Finivano le cattedrali. Cominciava uno sterminato monte Athos, pieno di eremi. I santi diventavano un esercito e il sacro tutt'uno con il territorio. Nella gola solitaria del fiume Corno, poco dopo Norcia, un lamponero mi attraversa la strada. Vedo il volto di un africano. Mi accorgo di averlo investito per un soffio. Mi fermo per accertare che non sia successo nulla. Chiamo, urlo, ma non risponde che la foresta. L'uomo si è dileguato. Penso a un clandestino impaurito, ma in montagna niente è sicuro quando comincia a fare buio. Forse l'ombra non era nemmeno di un africano, forse la faccia scura era un'allucinazione. Unica certezza? A quell'ora solo gli stranieri si muovono a piedi. In Veneto e Lombardia ne vedi a processioni lungo le strade quando scende la notte. Ma una cosa è incontrare alieni in una pianura popolata di luci, altra cosa è vederli sbucare da una foresta di montagna. Un po' di paura ti viene. Sul Monte Amiata qualche anno fa li vidi uscire tutti insieme dal bosco una sera. Parevano i comansi di ombre rosse. Ex-vigoslavi, riconoscibili dal caratteristico passo dondolante dei Balcani. Erano i nuovi boscaioli della Maremma. Macedoni, bosniaci, cossovari, serbi, albanesi e montenegrini. Tutti figli della pulizia etnica che riscrivevano sulle stesse montagne di Carlo Cassola, ma in un'altra lingua, la storia del taglio del bosco. Di giorno erano presenze invisibili. L'inghiottiva una macchia mediterranea fittissima, capace di sbarrare il passaggio ai cinghiali e intrufolarsi tra sugheri e ulivi. All'ora della briscola li ritrovavi nei villaggi, al bancone, per la birra di fine lavoro. A Roccastrada un'antropologa di nome Teresa mi parlò di loro e anche lei, come la banconiera sulla piana del Castelluccio, mi parve una sibilla. Sotto le mura del castello mi bastò un bicchiere di vino per trasformarla in una dea madre dai grandi occhi scuri, neri rubini custodi di chissà quali segreti. Ma in quest'angolo del palazzo, attorno al Terminillo, ai Monti Reatini, non trovo nemmeno la consolazione di uno straniero. Il vuoto umano è totale. Incrocio solo qualche pullman di preti e pie donne vocianti in viaggio verso Cascia e Roccaporena, i mistici luoghi di Santa Rita, ahimè orrendamente cementificati, sulla strada per Norcia, tonache dappertutto. I preti e gli inverni lunghi, mi disse un giorno un professore di Rieti, sono il motivo per cui dalle mie parti il Medioevo è durato di più. Poco oltre a Leonessa, uno straordinario borgo medievale semivuoto, gli alberghi sono chiusi. Busso a una vetrata, all'interno c'è una donna china su delle carte, alza lo sguardo stupito e poi con una perfetta ellissi mi dice non siamo ricettivi. Per strada la poca gente mi guarda curiosa, non sa come collocare un viaggiatore solitario che non va al Terminillo, non si muove d'agosto e per giunta è alla guida di una macchina d'altri tempi. Chissà, mi chiedo, come devono essere quei posti a novembre, quando nell'anima degli indigeni si spalanca il buco nero delle giornate più corte dell'anno. Continuo a vagare e proprio quando la notte mi cattura ecco arrivarmi il soccorso un cartello quasi invisibile con la scritta agriturismo. I fari incerti della Topolino illuminano un nome curioso, Villa Pulcini. Ottava rima e ragù. Quando arrivo a Villa Pulcini trovo solo quattro case e un cane enorme che dormendo in mezzo alla strada mi impedisce di passare con l'auto. Nessuno in giro. Anche la locanda è chiusa. La foresta alida umidità fin dentro le aie promette imminenti incursioni di volpi. Non vorrei essere una gallina da queste parti, specie in un paese che già con il nome mette appetito ai predatori. Erro alla cieca, fin davanti al monumento ai caduti, poco sotto la chiesa. Sulla lapide i cognomi sono solo di due tipi, Pulcini e Faggiani, rigorosamente. E poiché pure i nomi Carlo, Giuseppe, Antonio, si ripetono, accanto ci hanno messo anche il nome dei padri, per evitare confusioni, dura per un postino consegnare lettere da queste parti. Ma a un tratto un canto corale rompe il silenzio. Le porte della chiesa si spalancano. Un piccolo fiume di gente si riversa per strada. La messa è finita, ha detto il prete. Andate in pace. Meno male, non ci sono soli morti a Villa Pulcini. Così incontro la Gina, proprietaria della locanda. Mi fa festa, sono il suo unico cliente. Apre il locale e svela l'enigma dei cognomi. I Pulcini vengono tutti da Ferentillo. Scapparono, non si sa perché. I Faggiani, invece, sono di Poggio Bustoni, il paese di Lucio Battisti, e si spostarono qui perché un Faggiano si era innamorato di una Pulcina. E io sono la figlia del poeta, dice la Gina mettendo sul fuoco cotolette d'agnello. Il poeta? Sì, Leonardo Pulcini, uno dei grandi dell'ottava rima. Andava a cantare a tema nelle feste. Ora ricordo, Francesco Cucini me l'aveva detto. Da queste parti vive ancora la voce antica dell'Appennino. Qui puoi ancora assistere a pubbliche di sfide in rima, a gare fra poeti capaci di continuare per notti intere attorno al fuoco. Ascolti questa, dice la locandiera lusingata dal mio interesse. Attacca. Siede leonessa come una regina, incoronata dalle montagnole, generatrice di un'aria siffina, profumata di gigli e di viole. Poi, di nuovo, pelando patate. Con grande riverenza a te, minchino, o re degli animali, o buon somaro, per quella tua bontà, quel tuo destino, che al mondo e all'universo ti fa caro. Dice che sono fortunato. Stasera in locanda è atteso Pietro de Acutis, uno di Roma, che proprio qui ha conosciuto il vecchio Leonardo e da lui ha imparato i segreti del poetare. Mezz'ora dopo, attorno a un vassoio di agnello e patate arrosto, in compagnia di tre avventori, il superesperto mi scodella l'arte secolare dello sfottò, della rima libera da osteria e di quella ufficiale da cerimonia. Svela, con dovizia i particolari, i trucchi delle assonanze e della rima baciata finale, quella da cui l'avversario è costretto a ripartire e che diventa per questo il trucco base della sfida tra poeti. È l'epifania di un mondo sconosciuto, quello dell'epica in rime, dei maggi e del poetà cantando. E il de Acutis, con quel nome, mi pare un professore di latino intento a spiegare l'esametro a una rumorosa classe di liceali. Virgilio, è evidente, era figlio di questa cultura orale, antica come il Mediterraneo e il mondo. E mentre il ragù, sobollendo in cucina, sparge lo stesso odore italiano fiutato sui Monti Sibillini, nel racconto dei commensali emerge l'ombra di una regina, una certa Beatrice di Pian degli Ontani, vissuta oltre due secoli fa vicino al passo della Betone. Una pastora che fu famosissima, che innumerevoli uomini tentarono inutilmente di battere e che Tommaseo e Ruskin sentirono dal vivo, trascrivendone le rime su un libro fitto di straordinarie incisioni. Mi chiedono di scegliere un tema per una dimostrazione pratica. Propongo il lupo, ma del lupo guai a parlare. Gli lupi non si possono neanche nominare, sobbessi e protette, e mi raccontano di una mucca intera orrendamente sventrata durante il parto in una montagna. Quando muore un armento, in Italia è sempre colpa dei lupi, perché solo se è stato il lupo può essere risarcito. Ma nove volte su cento la colpa è dei cani in branco, abbandonati o persi dai cacciatori. Come tema propongo i preti, e stavolta gli avventori accettano. Si schierano uno in favore e uno contro. Il primo si concentra e attacca. Ricurvo sotto il legno del misfatto, l'uomo divino sale al suo calvario. Poi continua la storia con un'impressionante crocifissione, evocata dal parroco ammessa. Si, continua l'altro, ma quando il povero Cristo è lì appeso, il prete scappa, perché se l'è fatta sotto dalla paura. E allora il povero Cristo? Chi lo conforta in tanta confusione? Una bella puttana e un gran ladrone. Uno dei trucchi, mi dicono, è l'uso delle mani. Servono a scandire il ritmo come nel solfeggio. E la serata va avanti a chiacchiere, melanzane e vino rosso, mentre fuori c'è il buio del novilunio con le volpi all'opera nei pollai di Villa Pulcini e i lupi a caccia sui monti del reatino. Come mai questo tremendo vuoto? Chiedo se Roma è vicina. Roma? Saltano su tutti insieme come se avessi nominato il diavolo. È proprio Roma il problema. Nessuno, mi spiegano, rimane in un paese che ha dietro l'angolo la città eterna. Scappano tutti. E così, mentre Roma fa le notti bianche, già a Rieti cominciano le terre del silenzio. A Rieti, alle dieci di sera, è tutto morto. Non trovi più un locale aperto. Arriva un amaro a base di Genziana. Eravamo a Bruzzo una volta, sospira la Gina. Poi Mussolini ci ha annesso a Lazio per fare grande Roma. E non c'è convenuto per niente. E pronuncia la parola a Bruzzo con fierezza, come se evocasse un mito dell'esistenza. Un mondo di Eglander assediati e vinti dalla corrotta metropoli dei burocrati ministeriali e dei porporati vaticani. Sarebbe da spiegarlo a Bossi, che disse Roma ladrona, ha quasi più senso in Lazio che in Padania. Forse Roma è davvero un ragno, dico, soffiando sul fuoco della rabbia montanara. E mostro la carta geografica con le vie consolari che si dipartono a Raggera, come le zampe di una tarantola. Un ragno, sicuro, si illumina la Gina, cogliendo la palla al balso. Il ragno è il nuovo tema della serata in rima. Ascolti questa, fa il diacutis. È di Bernardino Perilli, recita commosso. Saggio maestro della tessitura, il buon lavoro sempre ti accompagna. Lungo le crepe delle vecchie mura, intesse il giorno la tua tela ragna. Però lavori in maniera un po' losca, tessi lo trabocchetto per la mosca. Domani vai a trovare Fortunato Aloisi a Terzone, mi esorta la Gina. È l'ultimo dei grandi a 85 anni e una memoria di ferro. Vado a letto a tentoni nel buio compatto, in una casetta verso il bosco, sperando di non trovare l'enorme cane addormentato sulla strada. Mi rode una curiosità. Che rapporto esiste fra la rima e questo incommensurabile silenzio. Come mai questi appenninici più taciturni dei tibetani sono anche maestri del poetare? Non ho forse trovato la stessa cosa sui monti fra Liguria, Toscana ed Emilia, terre dimenticate, dove però risuonano pifferi, fisarmoniche e cornamuse? In fondo Vasco Rossi, Francesco Guccini, Lucio Battisti vengono dal più recondito appennino. Sono anche loro figli del silenzio. Capita nei viaggi che le curiosità si assalgano di sera. Se non le soddisfi passi la notte in bianco. Così chiamo al telefono Nanni Barbero, il vignaiolo di Sardana, che sa tutto di musica e poesia italica. Per lui l'ottava rima è il freestyle della poesia cantata ed è, senza dubbio, figlia del silenzio dei campi. Era l'improvvisazione assoluta. L'uomo solo parlava fra sé per passare il tempo e le parole si combinavano spontaneamente fra loro. Il padre di Benigni era un mostro in ottava. Roberto è un prodotto di questa cultura. Anche Umberto Eco è bravissimo a improvvisare. Già, ma la memoria? Quella da dove viene? Mi chiedo come facessero per esempio a ricordare le centinaia di quartine che componevano i Maggi, le grandi rappresentazioni drammatiche che mobilitavano interi paesi d'Appennino. Chiamo a Parma il musicologo Gigi Dell'Aglio che un giorno mi ha parlato dei mirabolanti Maggi rinati a Costa Bona sotto il passo del Cerreto in Emilia. Senti questa? Mi dice. Anni fa una ragazza iniziò una ricerca su un maggio. Tornò da me delusa. Aveva trovato solo quattro vecchi che ne avevano sentito un'edizione quando erano bambini e non ricordavano quasi nulla. Torna, le dissi, e falli ricordare assieme. Lei tornò e i quattro, aiutandosi tra loro, ricostruirono 260 delle 340 quartine di cui era composto il maggio. Incredibile? Niente affatto. Allora non c'era la tv a occupare la mente. Non c'era il rumore. Non c'era il ronzio di fondo che ci obbliga a non pensare e a consumare. Sai, credo che la demenza senile altro non sia che un hard disk pieno. Il mattino dopo eccomi di buon'ora sulla strada per Terzone, il villaggio di Fortunato Aloisi, l'ultimo dei grandi. Sono dieci case e un fiumiciattolo, in bilico tra Umbria, Marche e Abruzzo. Un borgo spopolato che una volta aveva tre costerie, quattro macellai, due fabbri, un sarto e un cambiere. Chiedo a un passante dove abita il nostro. Ah, il poeta replica il tipo indicando una casetta sul torrente. Ma l'indicazione non serve. Al poeta ci arrivi a orecchio. Basta seguire un canto che porta a una rimessa di fronte alla casa. È lui. Non può essere che lui. Il poeta canticchia lavorando al torneo, la schiena dritta, le mani forti di chi ha fatto mille mestieri. Non si è accorto di me. Ascolto e non credo alle mie orecchie. Schifani, bondi, chiedano a Berlusconi come è andato lo sciopero fiscale. La conta delle schede, gli sfrattoni e l'ultima tornata elettorale. Finitela di rompere i bidoni, che sono pieni e già deborda il male. Perché vi piace tanto far di mostra senza metterci mai la merce vostra? Attualità politica in endecasilabi, commentata in diretta. Sono di fronte a un bardo del terzo millennio. Aloisi mi vede, sguscia da dietro il banco da lavoro. Mi stringe un po' imbarazzato la mano. Non so lei di che corrente sia si giustifica, ma io sono un po' allergico a quello lì. Sorride del mio interesse per i suoi versi. Spiega che non c'è niente di speciale nel giocar di rime, perché le rime sono la cosa più facile del mondo. E queste gli sono venute fuori distinto la sera prima, accanto al fuoco, guardando il telegiornale. L'ottava rima era come la patata col pomodoro a tavola. La usavi sempre. Ritmava la giornata. Eravamo senza luce, senza radio, senza giornali. Avevamo soltanto quelle rime. combattevano l'analfabetismo. Invitavano a leggere, anche in assenza di scuola. Ci tenevano vivi. Poi chiede, ma lo sai qual era il più bel regalo per un pastore? Un libro. Aloisi sente la forza, ma anche i limiti di quella cultura pastorale. Avevamo il mito della terra vergine. Il letame l'abbiamo sempre buttato. Così ci insegnavano i nostri vecchi. La terra era sacra. Non si doveva toccare. Era terra madre. La ricchezza era solamente le pecore. Il reddito delle famiglie si è sempre misurato in pecore. Ma lo sai, mi dice quasi con sfida, dove ho imparato ad arare per bene la terra? In Veneto. Qui nessuno lo faceva sul serio. Ma come? Penso tra me. A dieci chilometri da qui c'è Bagugno, un paesone sulla via Salaria dove si celebra l'apoteosi della ratura. Ogni anno si scava con l'aratro un solco dall'estremo orizzonte fino alla chiesa madre e un toro viene fatto inginocchiare davanti a un comune gigante sul sagrato di quello che fu il santuario di Bakuna, antichissima dea della fertilità. Com'è possibile? Riparto verso il re delle montagne appenniniche, il gran sasso e i pascoli di campo imperatore, con la sensazione di essere su una frontiera tra due mondi, coltivatori e pastori, farmer e cowboy. Forse, penso, è tutto molto semplice. Più mi avvicino alla terra vergine, allo spazio brado delle greggi e dei tratturi, più la ratura, rappresentazione della terra violata, diventa atto sacrale, rivoluzionario e di rottura di un mondo millenario. Intanto il cielo si è chiuso di nuovo, dove i monti diventano arcipelago. La prima volta da matrice ci vai per una matriciana, ovvio. Succede che nella tua locanda una materna cameriera con chignon ti sussurri un confidenziale che gli porto, sapendo perfettamente la risposta, e poi ti serva con cura ad altri tempi sotto una gigantografia autografata di Bartali e Coppi. Al tavolo accanto al mio ci sono due poliziotti, a un altro poco più in là tre operai in tuta. La gente parla a bassa voce, ha un'amabilità speciale, del tipo che li vuole i pomodorini, gratinati, so boni. Quando esco la cameriera mi rincorre con la minerale non bevuta, perché? Non si sa mai, in viaggio può servì. Con la neve fresca i selvaggi monti della Laga paiono piramidi d'Egitto, prismi perfetti sotto i quali regna l'anarchia. Il terreno da matrice a campo imperatore sembra all'Atlantico quando il vento cambia, e la Topolino si perde in un mare di onde anomale, che sembra non portare da nessuna parte. Per strada nessuno, una decina di macchine in mezz'ora. Il cielo si è definitivamente chiuso e sulle rive del lago persino la bella Campotosto appare improvvisamente tetra, vuota come la Mongolia. E' l'Abruzzo che comincia. Brava gente di Ancona mi convinse che era temeraria follia scendere attraverso l'Abruzzo come mi ero proposto. Scrisse nel 1802 il tedesco Johann Gottfried Seume. Le descrizioni che mi facevano erano terribili, e di fronte alla mia apparente ostinazione già cominciavano a pregare per la mia anima. Era terra da lupi l'Abruzzo per gli stessi italiani, e poiché a volte le circostanze si equalizzano per confermare i pregiudizi, oggi con la pioggia anche Campotosto fa paura. Nell'aria una tristezza idroelettrica atroce, e la gente per strada mi appare con facce dure, da Erzegovina in tempo di guerra. Come se non bastasse, due cani liberi mi azzannano i copertoni. Non gli enormi bianchi pastori abruzzesi, che stanno buoni se non ti avvicini al gregge, ma randaggi scuri di taglia media, con l'occhio da pugile suonato. Quelli che fanno branco adottano una casa, non importa se vuota, e la difendono da chiunque si avvicini. Al passo delle capannelle la strada sembra perdere ancor più la direzione, abitarsi in un dedalo di saliscendi insensati, ma poi, oltre un ultimo dosso, ecco i pascoli che incominciano, lisci e irregolari come campi da golf. Mi accorgo di essere oltre i 1500. Il viaggio assume una dimensione così aeronautica che sopra mi passa l'ombra di otto scorzeni, il tedesco che nel 43 con un piccolo aereo liberò Mussolini dall'esilio sul Gran Sasso. Ho la sensazione di essere su un silenzioso dirigibile, o forse su una nave in viaggio per altre latitudini, la penisola Italia che va. Gli appennini sono fluidi, un gregge di pecore in moto, un arcipelago pellegrinante. Nel vortice l'intera penisola ruota sotto le nubi. L'idea di andare a sud è smentita continuamente dalla posizione delle cime. Scendendo sulla dorsale, tutto è sempre più a sinistra, dunque più a est di quanto ci si aspetti. In Abruzzo l'Italia diventa orizzontale e stretta, punta dritta a oriente, schiacciata come nell'antichissima tabula peutingeriana. Passo alla direzione del parco, trovo funzionari depressi o sospettosi, posto brutto, già ministeriale, estraneo al grande padre roccioso che lo sovrasta. A campo imperatore nevica bagnato, la strada è deserta, nemmeno una luce. L'auto naviga con lunghe curve tra rotonde gobbe erbose. Difficile credere che mille metri più sotto, nella pancia del re dell'Appennino, a metà del tunnel che lo buca e lo sconcia di cemento, ci sia un laboratorio di energia nucleari, quello del professor Zichichi e dei suoi apprendisti stregoni. Ma è proprio là che si celebra la sconfitta del nostro nemico numero uno, il rettilineo. Gli uomini che sparano elettroni alla velocità della luce all'uscita del bunker in galleria, non possono girare a sinistra, ma solo a destra, per via del senso unico. Per andare all'Aquila devono prima uscire sull'altro versante, poi tornare indietro e rifarsi il buco nero sotto il gran sasso. Che goduria! A notta c'è un'ombra fradicia in mezzo alla strada. È uno che ha bisogno di aiuto. Si sbraccia nella neve marcia con una pila accesa in mano. Rallento, apro all'incontrario la vecchia portiera. Chiedo se posso dare una mano solo per godermi lo smarrimento del naufrago di fronte al macinino sbucato dal tempo. Difatti quello resta a bocca aperta. Non osa mendicare aiuto a un tizio più bagnato di lui su un'auto più bisognosa della sua. Per un attimo si sente solo il ronzio del tergicristallo. Poi l'ombra imbacuccata spiega, ma solo per buona educazione, che gli è morta la batteria in una stradina poco sotto e che dentro l'auto c'è la sua ragazza, la quale sta preoccupata assai. Ignora l'uomo di poca fede che la topo, dovendo sopravvivere ai propri acciacchi, contiene un arsenale inimmaginabile di ricambi e ammennicoli di ogni tipo. Figurarsi se manca l'occorrente per l'emergenza elettrica. Ho i cavi, lo soccorro con non curanza. Non si preoccupi, salga che andiamo a vedere. Lui si accomoda dubbioso sul sedile bagnato. Quando arriviamo alla vista del trabiccolo la ragazza si mette a urlare. È completamente pazza, ma capisco che possa sentirsi presa in giro. Lo insulta, lui cerca di calmarla, inutilmente. Intanto io realizzo il ponte con flemma britannica. L'umidità fa friggi e ricavi, ma funziona. Vedi quanto sei stronza? Fa lui. Me ne vado, che litigano ancora nella tempesta, con il motore acceso. Smette di piovere. La torre di Santo Stefano di Sessanio sbuca tra nubi sfilacciate. Ho telefonato per la cena in un posto che si chiama Ostello del Cavaliere. Così, solo per quel nome da viaggio anni cinquanta. Dall'altra parte del filo c'era una certa rosina, ma quando arrivo nel temporale la porta è sbarrata. Nello spiazzo solo cuccioli di pastore abruzzese che si rotolano felici nelle pozzanghere. Non posso aver sbagliato. Busso? Niente. Allora suono e dopo un po' sento uno scalpiccio. Apre una signora intenuta da cuoca. Rosina. Ah, siete voi. Si illumina. Accomodatevi, prego. Magnifico. Ho superato un'altra frontiera. Comincia il mondo del voi. Scusate, ma teniamo la porta chiusa per via del freddo. Dentro non è una casa. È una fortezza profumata d'arrosto. Piccole finestre, muri spessi. L'idea di veranda qui è inconcepibile. L'Abruzzo è costruito per la neve. È terra di scorte invernali. La credenza è piena di legumi di ogni tipo e colore. Farro, ceci, lenticchie, fagioli neri. Solo al bazar di Kabul, altra terra di pastori, ho trovato di meglio. Rosina è come una maga nell'antro fumigante di un alchimista. Depositaria di segrete formule, regna incontrastata sui fuochi e sull'anima buia della casa. Le chiedo dove dormire. Vai alla Rocca di Calascio. C'è una coppia con cinque figli, che ha camere e buona cucina. Si sta bene. Il voi è già diventato tu. Calascio ha 90 abitanti e un consiglio comunale di nove. Lampeggia. Il maniero della Rocca che sovrasta il paese appare sull'orlo di una scarpata tantesca. Non so come arrivarci. Al bar del paese, una bruna dall'occhio ispanico mi istruisce sulla strada mentre cinque avventori maschi tacciono in stato di allerta. Quattro chilometri ancora. La strada si arrampica nel crepuscolo verso rude ribattuti dal vento. Il forte è più vecchio dell'anno 1000 e Camelot e Golgotha nello stesso tempo. O forse Mardin, la Rocca turca aggrappata al cielo, alta sulla Mesopotamia senza fine. Di nuovo sopra il mare di nubi che ribulle a valle, quell'impressione di galleggiare, di stare a prua di un bastimento. Susanna, la mamma albergatrice castellana, mi viene incontro nel buio per farmi strada fra rocce e muri sbreciati. Il tempo di un bicchier di vino in locanda e a valle dei nubi sono diventate un mare latteo sotto il quale pulsano in trasparenza luci dei villaggi. Sopra in uno squarcio la luna. Lontano le masse nere della Maiella e del Sirente. Più in là l'arcipelago sannitico, sulla linea dei terremoti. A occidente i monti marzicani. Oltre il fucino, il lago che non c'è. Sono qui da dodici anni, mormora Susanna, e il posto mi emoziona ancora. È una regina d'inverno. Da qui non se ne va nemmeno con la neve. Ho conosciuto questa rocca anni fa, scendendo con gli sci da Campo Imperatore. Nevicava. Nubi uscivano dalle finestre vuote. Non c'era rimasto più nessuno. Ma la magia del luogo mi ha conquistato. Venire qui è stata la decisione più facile della mia vita. Eppure lasciavo Roma, la mia città, una vitaggiata, un lavoro che mi piaceva, gli amici, per scommettere su dei ruderi. Ora le pietre hanno ripreso vita. C'è la locanda, ci sono le stanze per gli ospiti nelle vecchie case restaurate, i bambini, qualche famiglia che torna, due comignoli che fumano, sul secciato giocattoli, un secchio con malta e cazzuola. Notte da piumino, cani che urlano verso Castel del Monte. Le cime galleggiano sullo strato di nubi fosforescenti, formano un perfetto arcipelago. Una somiglia a Cursola, un'altra a Meleda, un'altra ancora Brazza. Ma sì, l'Appennino è solo una Dalmazia senza il mare. Sognerò un transatlantico pieno di orchestrine, in viaggio tra neri promontori, l'epifania dei monti naviganti. Dispersi nelle terre di mezzo, le vecchie auto di una volta ti impregnano del loro odore, come un bravo cavallo da mandria. In tre settimane di sole e in temperi, la Topolino mi ha messo addosso la puzza di un gauscio, un esotico impasto di ferro dolce e cuoio, sudore, polvere e bestiame, con in più un mix veteroperaio di plastica, stagno, caucciù e guarnizioni. Una mutazione genetica. Mio figlio Andrea, che mi raggiunge in pullman sulla Tiburtina Valeria per farsi un pezzettino del viaggio, mi sente addosso l'odore del trabiccolo prima ancora di salirci. Una via di mezzo ride fra un ranch e una balera di periferia. L'auto ha il profumo dei luoghi attraversati. Un'altra Italia, dimenticata, fatta di mandrie, greggi e pastori. Estranea al mondo asettico della modernità. Fiutando l'abitacolo, Francesco Cuccini ha ritrovato l'odore dei macchinisti della ferrovia porrettana. Una badante polacca ha chiuso gli occhi e ha rivisto come in sogno suo nonno rincasare dalle acciaierie di Cracovia. Una vecchia marchigiana ha ricordato i dragoni re Vittorio e la merda di cavallo che si lasciavano dietro. Ognuno scopre qualcosa. La polizia sente puzza di clandestino e i cani da giorni mi annusano con troppo interesse. La sera arriva con lampi e vento forte. Esco a rafforzare gli ormeggi del macinino. Devo coprirlo con un telo di plastica perché l'acqua non si infili nelle guarnizioni. A cena, in una locanda, uomini della forestale raccontano di un lupo investito sulla via Tiburtina, fra Sulmona e la stretta del Pescara. Succede spesso. Le macchine e camion li beccano lì sempre nello stesso punto. Il branco passa di notte ed è sempre di notte che, a pensarci bene, la sombra clandestina mi è apparsa finora. Succede dalla partenza in terra Ligure dove ho cominciato a fare contromano la sua epica strada verso le Alpi. I forestali mi portano a sentirli, i lupi, ai piedi del morrone. Nella pausa, fra un camion e l'altro, scende un gran silenzio. E allora, a tratti, lontanissimo, ecco il lamento. È il solitario cacciato dal branco, mi dicono. Da un'altra direzione arriva il canto corale del gruppo, poi l'urulato degli adulti, più breve, quasi soprannaturale. C'è un esemplare malato in quarantena, mi dicono gli uomini in divisa, al centro della forestale di Popoli, lì vicino. Andiamo a vederlo. Lo fiuto a distanza, l'odore forte è quello della carne cruda, livemente putrefatta, completamente diverso da quello del cane. Dormicchia su un giaciglio di paglia, alza appena lo sguardo. Da uno spioncino la torcia elettrica illumina due occhi fieri, indimenticabili. Un lupo malato, zoppo e infetto, ha più nobiltà di un re. Il giorno dopo, in una mattina splendida, Nerina morde il pendio verso le gole di Caramanico, in mezzo a sorgenti, fontane, eremi sperduti e l'ultimo rifugio di Celestino V, quello che rifiutò di restare papa. Ve leggiamo con la capotta abbassata e la magliella imbiancata, pare la Sierra Nevada, sopra un terreno andaluso popolato di ulivi. Sulla strada, solo qualche motociclista e una miriade di ramarri e serpentelli in cerca di tepore. Attenti, ci hanno detto prima di partire, il gran sasso è maschio, la magliella è femmina. Comincia la terra delle dèe madri. Qualcosa di vero deve esserci. La magliella è montagna rotonda, morbida come le baielli e tettone di una volta. Sul passo di San Leonardo il paesaggio è tutto prati, campanacci e abbeveratoi. Dalla parte di Guardia Grele, sul lato mare del massiccio, hanno trovato cavità a forma di utero, con dentro piccoli corsi d'acqua e statuine di Pia Giovia, mitica regina protettrice della ierogamia, la prostituzione sacra. Da qualsiasi parte la guardi, la magliella è un grande luogo simbolico della fecondità. Poi comincia la discesa su Pacentro, una meraviglia. Torri medievali, uno stradone che corre sul displuvio tra rumore di stoviglie e profumo di arrosto. Un negozietto dove si trova tutto, dall'uva alle prese elettriche. Una donna che mi vende un ombrello giallo con un gran sorriso. Un barbiere che mi tosa gratis in omaggio alla Topolino e poi mostra dal balcone, una per una, le sorgenti attorno al paese. Sembra impossibile che la gente abbia potuto emigrare da qui. E invece è scappata così in fretta che ha fatto in tempo a morire per le padri degli altri. Per l'America soprattutto. Un manifesto in piazza svela che la sola Pacentro ha avuto due morti in Vietnam, uno sulle torri gemelle e uno in Iraq. Andrea è stupefatto da questo mondo minore. Non ha mai avuto così chiara l'immagine di un Italia arcipelago di meraviglie ignorate. Seduti al bar in piazza, con davanti un chinotto fresco, ci chiediamo che ne sappiamo noi del nord di questi mondi. La risposta è niente. È più facile che un lombardo conosca l'Indonesia che l'Abruzzo. Nei giornali e in tv le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Basilicata non fanno notizia. La Calabria è nominata cinque volte meno della Sicilia. Le terre di mezzo non esistono. Emergono solo con i delitti. L'Italia è meno unita, meno patria di trent'anni fa. Quanto ho maledetto la naia. Eppure la leva obbligatoria, oggi abolita, è stata per gli italiani l'ultima occasione di conoscere l'Italia minore. Nella brand accanto alla mia c'era un avellinese taciturno di cui tutti avevano paura. Un giorno gli chiesi, ma tu che lavoro fai? E lui, guardandomi fisso, o ladro? Io, che ero o dottore, lo rispettai. La sera gli raccontavo della mia vita e lui ricambiava a suo modo, proteggendomi. In caperata c'era anche un pastore molisano. Alla mensa prendeva solo il pane e il vino. Della carne non si fidava. Le proteine se le portava da casa, formaggio soprattutto. Ci dividevamo il suo pecorino come un tesoro e io gli portavo da Trieste le amarene sotto spirito, fatti da mia nonna. Mezz'ora dopo, sulla strada per Pesco Costanzo, il sulmona Castel di Sangro, composto da un solo vagone, ci plana lentamente accanto. Si affianca alla strada sul rettilineo del tratturo, viaggia a parallelo alla nostra stessa velocità, a cinque metri di distanza. Per un po' il ronzio regolare della topo e i sobbalzi sincopati del treno formano un'unica macchina che vibra, apparentemente immobile, mentre le montagne vanno a nord-ovest, nella direzione contraria, sull'autostrada delle greggi. Una ragazza si sporge dal finestrino per salutarci, poi il treno si inclina, curva sulla destra, i binari si staccano dalla strada e comincia la discesa a precipizio sulla Val di Sangro e il Molise. Capracotta, quota 1400, nubi basse, vento e profumo di salsa di pomodoro. All'ora di pranzo, per strada, solo un cane, un bimbo in bicicletta, la pantera dei carabinieri e sui muri gigantografie di epici inverni con il paese sepolto sotto metri di neve. Oltre la chiesa, un precipizio con vista sulla Valle del Sangro. In Molise il vuoto cresce. Dopo le grandi montagne e isole dell'Abruzzo comincia una Polinesia di cime minori, un perfetto luogo-rifugio per sanniti, longobardi e, si dice, cartaginesi, datisi alla macchia alla fine della guerra punica. Anche Andrea oggi è preso da un sano desiderio di far perdere le tracce di sé. Qui ci sono anche croati e albanesi, mi spiega all'uscita della chiesa un raffinato signore con il pizzetto e il basco. Emigrarono in Molise per ripopolare le terre svuotate dalla peste. Siamo, dice della sua gente, un perfetto campo base della pastorizia multinazionale. Distinguerci è facile. I paesi con le vacche sono longobardi, quelli con le pecore sono albanesi o croati. È di origine croata anche lui. La sua famiglia sta da secoli a Montenero di Bisaccia, il paese di Antonio di Pietro. Quando gli dico che sono di Trieste diventa più preciso nei riferimenti alla sua terra d'origine. Non dice più croato, ma morlacco. I morlacchi sono la brigantesca stirpe montanara, nota dalle mie parti, che ha fornito alla Repubblica di Venezia e poi all'impero d'Austria le balie migliori del Mediterraneo e i soldati più tosti da mettere in campo contro il turco sul confine della Bosnia. Gli ricordo che i morlacchi sono stati in prima linea anche nell'ultima guerra a Jugoslavia. Sorride. Se è per quello, i morlacchi li avete in casa. Hai mai guardato la testa di Di Pietro? Nuca piatta, occhi folli. Pastore, morlacco stampato. E il carattere lunatico? Borlacco anche quello. Che strano. Ho frequentato i Balcani per anni e non ci ho mai pensato. È vero. Il profilo ministeriale di Antonio Di Pietro l'ho già visto mille volte, alla sommità di corpi atletici armati di Kalashnikov, da reparti di Mostar o in fondo a valli montenegrine piene di pioggia e di vento. L'ho incontrato in capanne pussolenti di pecora sui monti d'Albania e persino nelle terre greche d'Epiro, da dove è scese Filippo e il Macedone. Del brutto tempo e dei santi. Tira un vento gelido sui monti del Matese e sulle Mainarde. È nevigato fino a bassa quota. Dal tirreno arrivano nuovi temporali. Così facciamo sosta a Carovilli, un borgo delizioso a 30 chilometri da Isernia, risparmiato dalla peste della Camorra e dallo spopolamento. Tutto intorno ci mea guzze dal nome eloquente di Penna, Pizzo e Capa. In piazza, l'Orafo, il bar pieno di uomini, la chiesa sconsacrata del Carmelo, la sede funzionante della società del mutuo soccorso con il biliardo e il gioco della dama. In dieci minuti attorno a Nerina c'è già un robusto capannello. Topolina, la chiamano teneramente. Alla locanda alla grande quercia ceniamo con Peppe Battista, medico di Sernia appassionato di transumanze, e Nunzio Marcelli, un abruzzese che, primo in Italia, dopo la laurea ha scelto di fare il pastore. Il contrario di Gavino Ledda, che fu il primo a laurearsi dopo essere stato pastore. Mario, il locandiere, barbetta e occhi neri da satiro, rialtizza il fuoco. Intorno, commensali dalle facce sannite, razza osco-umbra, silenziosa e chiusa nella sua lingua stretta da montanari. Lontano fischia il treno sulla linea Pescara-Isernia-Napoli, e la macchina del tempo porta indietro le lancette di un secolo. Si parla del brutto tempo e dei santi utili a farlo smettere. A Sarno e Bracigliano, dove ogni temporale diventa un fiume di melma, lo sanno pure i bimbi, che quando piove, e piove troppo, si invoca San Biagio. San Tuvasse, con una preghiera che mezza filastrocca, mezzo esorcismo. Tuone e lampe fatte a rasse, che sta e casa e San Tuvasse. San Tuvasse, ieva pe e campe, non ce puteva né tuone né lampe. Cioè, tuoni e lampi state lontani. Questa è la casa di Biagio il Santo, e quando San Biagio andava per i campi, non facevano effetto né tuoni né lampi. Racconto che nel mio nord-est, nella valle del Piave, ancora si recita. Sant'Anna, Sant'Anna, tieni la pioggia nella tana, San Simone tieni il fulmine nel secchio. Ognuno ha il suo santo contro i temporali. In Friuli accendono i fuochi di San Floriano, il patrono della primavera che propizia la bella stagione, caccia i diavoli e fa entrare i ragazzi nell'età adulta. In Val di Susa si percuote la terra con violenza per spaventare il freddo. E qui, in Appennino, con le ultime grandi piogge, si è rotto un'argine. Le vecchie credenze tornano. A Cocullo, racconta Nunzio, si interrogano i serpenti che si attorcigliano sulla testa linea di San Domenico e dicono che tempo farà. Ma il nuovo sta altrove, nella Curia dell'Aquila, che studia di ricollegare ufficialmente le liturgie del dopo Pasqua con i riti quasi estinti di protezione della terra e della semina. Per esempio, per l'ascensione, quando le comunità costellano il terreno di croce e candele per garantire la fertilità, o per le erogazioni, quando il prete benedice i terreni. Qualcuno già vorrebbe riportare le pecore in chiesa a primavera, come si faceva fino a 50 anni fa, prima che i preti bollassero come blasfema, l'usanza che sacralizzava la partenza delle greggi verso la montagna. L'acqua, quando è troppa, è troppa, brontola il locandiere che pare Efesto accanto al camino. Ha sentito dire che a Somma Vesuviana, per la festa della croce, hanno occupato la cima del vulcano e acceso fuochi per chiedere il sole. Qualcuno ha raccontato che in Marsica e in Ciociaria vorrebbero rimettere Sant'Antonio Abate con la testa nel fiume, come si faceva una volta, a negarlo ritualmente perché capisca quanto è sgradevole la pioggia, quando esagera. La curia protesta, grida a blasfemia, ma altri ribattono che per l'emergenza opposta, la siccità, esistono in tutto il sud esempi di santi messi in castigo, come il benestare del vescovo. In Sicilia li girano con la faccia al muro, come una volta i ragazzini a scuola. Li lasciano seccare al sole con una sarda salata in bocca a morir di sete. Santa Barbara barbarata, cudoglie palle carrecate, una d'acqua e una di viento, Santa Barbara mia non fa succedere niente. Marino Niola, amico antropologo di Napoli, mi ha raccontato che attorno al Vesuvio che gronda pioggia e fuma di vapori, ora si invoca a Barbara, signora degli elementi, ex divinità cristianizzata dal tuono e del fulmine, patrona del fuoco e degli scontri atmosferici. Barbara con due palle caricate, una piena d'acqua e una piena di vento, da tener buona. In Irpinia, con sui temporali, si tornano a mettere alla testa del letto candele benedette, roba da veglia funebre. Con il vino e il vento che soffia nel caminetto, il discorso scivola sul diavolo e il malocchio, che in Molise regnano sovrani nelle conversazioni notturne. Succedono cose strane da queste parti, cercano di impressionarci i commensali. Siamo in una terra dove il sacro è intriso di demoniaco, Ghignabeppe. Mia madre, quando c'erano malattie in giro, faceva fondere l'acqua con l'olio, recitava una formula e ci riusciva. Mario ridacchia attizzando il fuoco. Ho imparato a vivere bene solo dopo aver intavolato buoni rapporti con i quattro diavoli che mi accompagnano, Belfagor, Satanasso, Lucifero e Bezebù. Con un gran gesto da gigione porta in tavola un piatto di costate enormi. Ora il Bolise riemerge dalla notte come la terra di Veneri e Priapi. All'Isernia, ci spiegano, la chiesa dei Santi Cosme e Damiano ha un campanile chiaramente fallico. Lì sotto gli uomini andavano a farsi benedire il sesso per favorire la fertilità. Acqua passata, ovviamente. La chiesa locale, oggi guidata da un vescovo con tanto di patente da esorcista, ha abolito il rito e gli imbarazzanti ex voto sono stati spediti al confino nei musei o trasformati in talismani a forma di corno. Il corno, ci dicono, è solo un fallo mascherato. Della festa originale è rimasta solo la processione con il trasporto di grandi ceri. Allusivi, ma non troppo. Sarà un caso, mi dicono, ma da quando i vecchi riti sono stati aboliti, il Molise ha smesso di far figli. Crisi demografica galoppante, di fronte alla quale i preti, poveretti, ora non sanno che pesci pigliare. Le tonache votate alla castità lo sanno bene. Dietro a Cosme e Damiano c'è ancora l'ombra dei loro antenati pagani, i fratelli greci di Oscuri, in esilio da due millenni, insieme a un esercito di fauni, satiri e priapi. Sanno che dietro a San Demetrio c'è la tenebrosa Demetra e dietro a Sant'Elia il carro incandescente di Elios, il sole dei greci. Non possono farci nulla i parroci. I due gemelli intatti come i bronzi di riace e sfolgoranti di potenza riproduttiva sono sempre qui, nella terra dei Senniti, pronti a rimpiazzare i santi resisterili per scelta clericale. Vacche lombarde in Terronia. L'indomani ancora pioggia, freddo e caminetto acceso. Impossibile ripartire. Nerina dorme sotto un telo accanto a un pastore e la taverna di Mario, dove ho trovato da dormire, diventa un campo base ingombro di quaderni e mappe. Nunzio Marcelli, barba nera da brigante, pastore laureato, arriva con le carte dei tratturi. Si siede come un gattone accanto al fuoco per spiegarmi come il mio passaggio a sud-est difficilmente potrà evitare le grandi strade delle greggi. Tutto il paesaggio, dice, ne è segnato. Anche padre Pio, a ben guardare, ha seguito quella direzione millenaria da Benevento al Gargano. Nunzio è appena stato a Kabul a insegnare ai pastori afghani come si fa il formaggio. Brontola che persino in quella terra di briganti, dove per secoli si è consumato solo latte acido e il Caglio è quasi sconosciuto, sono perfettamente consci del valore immenso dei pascoli. L'Italia no, ha liquidato una cultura. Ha dimenticato che la nostra ricchezza nazionale era qui, su queste montagne, e ora fa di tutto per impedire le transumanze, con disposizioni veterinarie e prive di senso. Persino le autorità regionali rifiutano di capire che il passaggio degli armenti è uno spettacolo unico, che attirerebbe spettatori da lontano. Alla pastorizia la politica ormai non dà più nulla, né cultura, né marketing, né la conoscenza di una vocazione. Gli spagnoli sì che hanno capito, si arrabbia Nunzio. Hanno riscoperto le mandie libere, riaperto le strade degli armenti e rilanciano la transumanza come festa popolare. Da qualche anno si fanno passare apposta gli armenti per Madrid e una gran folla va a vedere lo spettacolo. Federico II, imperatore, conosceva perfettamente il valore dei tratturi. Li trasformò in demanio reale e tolse ai baroni il diritto di gabella. Fu come togliere i pedaggi all'autostrada. Si mise in circolo una ricchezza immensa. Qualcuno cercò di resistere, come Celano, ma il re tenne sotto assedio il borgo per due anni, poi deportò tutti gli abitanti a Pantelleria. Usciamo a cercare i tratturi. I cartelli marroni che li indicano sono ovunque, ma trovarli è una caccia al tesoro. Hanno speso cifre enormi per rivalutarli. I soldi sono arrivati da Bruxelles, ma ci si è limitati ai cartelli. Li hanno protetti come beni nazionali di primo ordine, vincolati come il Colosseo, ma non serve a niente. Paesi interi hanno invaso l'autostrada degli Armenti. A Pescolanciano persino la caserma dei Carabinieri si è fatta su terra vincolata. Tanto che può succedere? Lo stato italico della Devolution, a differenza dell'impero centralista dello Svevo Federico, non reprime un bel niente. E intanto, mentre le nostre bestie sono impedite a muoversi per assurdi regolamenti veterinari, la grande distribuzione fa ciò che vuole e sulla nostra testa piovono mucche straniere agli ormoni. Quello della pastorizia italiana è un genocidio dimenticato. L'Unzio non si dà pace, parla di omertà nazionale, di espianto d'identità. Gli chiedo quando è cominciato tutto questo. Negli anni 50, con il governo Vanoni, si fece la scelta industriale e Roma, a Roma, dissero servono 5 milioni di braccia. Pensarono dove li prendiamo? Tra i contadini, fu la risposta. Ma come li prendiamo? Affamateli, disse Vanoni. Come? Fate crollare i prezzi. E così avvenne. Crollarono la lana, la carne, il latte, il formaggio. E l'esodo cominciò. Non ci fu una ribellione. Niente affatto. Siamo gente remissiva, figlia della cultura gregaria della pecora. Così accettammo. E il sud divenne di nuovo servo. Successe proprio quando stava nascendo una nuova classe piena di intraprendenza. Gli ex garzoni erano diventati padroncini, pastori anche senza terra, capaci di produrre infiltrandosi ovunque. E la sinistra non si oppose? Ma che? Anche la sinistra voleva bastonarci. Facciamoli sparire, diceva quei contadini retrivi. Chiedo chi consumò materialmente le catombe. I coltivatori diretti e la federconsorsi. Furono loro il braccio armato della politica. Ebbero il compito di distruggerci. Per costruire il vuoto di scambio servivano assistiti. Non contadini efficienti e pastori liberi. E poi cosa accadde? La cultura della terra crollò e l'Italia ebbe vergogna delle proprie radici. Buttò nel fuoco le vecchie madie e comprò mobili di formica. Tutta la meravigliosa complessità del territorio svanì, diventò nebbia, specie in appennino, che divenne montagna delle anime perse. Ripenso alla meraviglia decaduta di Pacentro. Sì, Anversa, Scanno, Pacentro. Luoghi forti, ricchi, nobili, con una storia di autonomia. Luoghi da dove non era mai emigrato nessuno all'inizio del Novecento. Azzerati in pochi anni. E poi? Gli operai divennero padroncini industriali. E questi, quando la DC non servì più, la buttarono a mare. La ballena bianca si era suicidata. Aveva distrutto il suo stesso elettorato. E a nord fu fatta a pezzi dalla rega. E i signori di Bruxelles? Killer anche loro? Non è l'Europa. È l'Italia il nostro nemico. Ci hanno obbligato a vaccinare le pecore con un farmaco che le faceva morire. Ma non era il vaccino il vero problema. Era il disprezzo con il quale ci veniva imposto. Era il fottersene delle bestie che crepavano negli alpeggi. Eravate solo cafoni. Che gliene frega di noi al Consiglio Superiore dell'Agricoltura? Niente. Loro non hanno niente da fare. Beccano lo stipendio di un ministro e non fanno niente. Li hai mai sentiti nominare? Sai dirmi un loro provvedimento? Uno soltanto. Gli chiedo come ha cominciato a fare il pastore. I miei mi dicevano. Studia se non vuoi restare pecoraio. Bene. Io ho studiato per diventarlo. Volevo tornare senza vergogna al mestiere dei padri. Amo queste montagne. Oggi ho delle greggi, i miei prodotti, formule interessanti di marketing. Ma la politica è sempre lontana. Come fate a tenere duro? La pastorizia in Italia è resistenza. E chi resiste in queste condizioni è un eroe. Pastori che si tolgono il pane di bocca per le loro bestie. Gente capace di fare formaggi che vincono tutti i concorsi. Ma che la grande distribuzione ignora. Ho conosciuto un casaro di Serre, vicino a Salerno, che sa fare mozzarella di quattro trecce con un unico pezzo di pasta. Non so se sai cosa vuol dire, ma se gli guardi le mani, la faccia, capisci. Ad Anversa degli Abruzzi c'è un vecchio raccontanunzio. Si chiama Antonio Di Giusto, classe 1920, contadino. Prende 516 euro di pensione, di cui 20, diconsi 20, per essere stato prigioniero in un lager tedesco. Ma ad Antonio basta molto meno per campare. Metà pensione, la Versa ha una fondazione per l'assistenza agli orfani. E in più si è tenuto in casa per 30 anni, da solo, una sorella completamente disabile. Come? Neanche un ministro delle finanze capirebbe. Lui parte ogni mattina, piegato in due dall'osteoporosi, per raggiungere il suo campo, a quattro chilometri da casa. Ci impiega 27 minuti. Cura le sue cicorie, le sue prugne, le sue patate. Poi si arrampica nel bosco per il legnatico. Ogni tanto passa a prendere la sua legna con il trattore e gliela lascia davanti a casa, racconta Nunzio. Poi lui la mette in cantina e lì, con la sega, la taglia a misura di cucina economica. E quella ginnastica è quella che lo tiene in vita. Mangia raramente carne. Ogni tanto viene da me con le sue verdure e le scambia con olio e formaggio. Quando mangi una pesca, non buttare via l'osso, mi dice. Può servire. Io lo rimpianto, ma a maggior ragione dovresti farlo tu, che hai dei figli. Per me è come un padre. Mi ha insegnato la solidarietà e il rispetto. Di giusto Antonio, buono anche di nome. Ma perché gente così non diventa cavaliere al merito della repubblica? Torniamo a Carovilli. Cerchiamo uno che ha saputo resistere. Roberto D'Andrea, casaro. Ben piantato, capelli ricci, mani enormi e guance surriscaldate. Ci porta subito nel retro bottega. Questa è la mia cassaforte, gongola, bollando manate micidiali alle caciotte appese a stagionare. Lo sta fermo un attimo. È divorato dalla passione. Sale al banco vendite, mostra i caciocavalli e dice che lui capisce dal colore in quale stagione sono stati fatti. Ne apre uno. La senti l'erba cipollina? È vero, si sente. E adesso prova, quasi grida. Prova questa burrata dal peperoncino. Le senti le margherite? Roberto è figlio del più vecchio pastore del paese. Ha 52 anni, lavora da 32 e ammette di avere ancora capito i segreti del mestiere. Lavorare la pasta cruda, dice, è la cosa più difficile che esista. Non c'è macchina che tenga. Quando ci sto io in bottega, non uso nemmeno il termometro. Mi basta mettere la mano nel calderone. Alza di nuovo la voce. Questo latte, voi del nord, non sapete nemmeno cosa sia. Vi siete scordati che sapore ha. Le nostre vacche pascolano, stanno sempre fuori e questo formaggio è fatto con il loro latte. Una ricchezza enorme. Ecco perché su questa produzione voglio il doc. Voglio farlo capire alla regione, a quei burocrati che hanno fatto di tutto per far morire il consorzio dei formaggi da tratturo. Te lo giuro su Dio, scandisce piantandomi in faccia agli occhi sbarrati. Te lo giuro su Dio che per questo mio lavoro non ho avuto neanche cinque lire di contributo. Al nord dicono che siamo assistiti. Invece facciamo le cose per passione. A me non importa far soldi. Mi importa solo far bene il mio lavoro. Voglio che sia riconosciuta la qualità. Io qui voglio vivere e lavorare. E qui deve venire la gente. Perché qui è la qualità. Tuona Andrea. E a ogni qui pianta l'indice della mano destra nell'aria con la velocità del lago di una macchina da cucire. La mia capretta meccanica prende la strada della Puglia. Sale e scende per spazi liberi. Bruca tra rocce muschiose e rotonde. Terre smeraldo ignorate dai baroni della politica. Intorno alla beverata vacche bianche sui prati. Podoliche le chiamano. Le hanno portate secoli fa i Longobardi. Pare che si trovasse una meraviglia nella dolce terra del sud dove sboccia il gelsomino e fioriscono i limoni. Talmente bene che qui si fecero seppellire armati con tutto il cavallo. Come si può vedere al museo di Campobasso. In appennino e non altrove lo svevo Federico II imperatore d'Italia scelse di godersi la vita errando di castello in castello con la sua magnifica corte. Stelle dappertutto. Lontano a bagliare di cani. Campane, vento, praterie, boschi, nubi chiare, greggi e grappoli di lumini. Davvero non so perché le Alpi si chiamino Alpi. L'alpeggio vero sta qui, nelle terre lunari del sud. In questo viaggio è solo dalle marche in giù che ho trovato animali al pascolo. Greggi nel Monte Feltro, mandrie sui Sibillini. Orde di maiali grufolanti sotto i monti della Laga. Di nuovo greggi sul Gran Sasso. Ora di nuovo mandrie in Molise. Al nord non ho visto niente di simile. Solo campi deserti e bestie recluse in capannoni puzzolenti di ammoniaca. Qui nel profondo sud tutto cambia. Il vero latte è giallo perché le bestie brugano anche i fiori. Non bianco, come ci fa credere la padania padrona per rifilarci roba sterile fatta con il fieno. Penso che la rivolta degli elevatori sia la rivolta di un mondo umiliato da mezzo secolo. L'epifania di una sconfitta culturale, esattamente come il vaillant. La diga del disastro la fecero gli eredi del fascismo. Gli stessi che distrussero la pastorizia e l'agricoltura italiana. Gli stessi che oggi liquidano la classe operaia. Ed è sempre peggio. Il duce, persino lui, era un socialista a confronto dei suoi nipotini. La lana era la ricchezza. Era il petrolio di questo paese che oggi è costretto a importare tutto, anche la carne. L'Italia dove non vedi più un animale al pascolo e dove i bambini credono che il latte esca dalle bottiglie. Era invece il regno favoloso del nomadismo trassumante. Il trionfo della libertà per uomini e animali. La nostalgia di Carmelina. Metti di essere in un posto dove fa freddo. La pioggia tamburella sui vetri e in cucina si preparano polenta e spezzatino. Un posto dove gli uomini sgobbano anche di domenica. Metti anche sull'architrave di un caminetto il simbolo rotondo del sole delle Alpi. Fuori ecco di campanacci con vacca al pascolo. Ecco, siamo arrivati in un posto così. Indovinate dov'è? Svizzera? Baviera? Lombardia? Veneto leghista? Ma che? È Molise. Italia Terrona. La casa natale dei Colantuono. Grande dinastia di mandriani nella terra dei tratturi. Impossibile ignorare i Colantuono ad acque vive. Paesino tra Isernia e Campobasso. Sotto i pascoli della Montagnola. Sulla via della Puglia. Cinque fratelli. Tutti nati di marzo. Da bravi figli di transumanti. Cioè di uomini che rientravano a casa in giugno. Pronti a ingravidare le mogli dopo aver svernato sul tavoliere. In cucina una grande madre vestita di nero. Dispensatrice di ordini e di cibo. In giro per la casa una tribù di nipoti. E dappertutto i segni di una dainastia antica. Partita chissà quando, si dice, dall'isola di Creta. Poco a mangià non sa ciuffà. Ride mamma Vittoria. Che tra pranzo e cena scodella venti pasti al giorno. Spingendoci verso il pranzo patriarcale. A capotavola c'è suo marito. Il capi veri parlano poco. Di anni settanta. Figlio di Colantuono Felice. Leggendario conduttore di armenti fra il Gargano e le montagne del Molise. I figli maschi ci sono tutti. Hanno facce andaluse. Occhi neri. Corpi tesi da cowboy. Mani grandi. L'orgoglio di un lavoro fatto bene. Salta il tappo di una bottiglia di vino. Fuori la pioggia aumenta. Ma per i pastori va bene. Vuol dire erba in abbondanza. Mio figlio Andrea è felice. Risente qualcosa di perduto in quel gruppo che lo accetta come un fratello. Si discute come ripartire con la transumanza. Bloccata nel 2002 dagli uffici sanitari in tutto il centro sud per la storia della lingua blu. Loro sanno che ripartire non è affatto un sogno. I trattori ci sono. Basta percorrerli. Sono una strada che appartiene per legge ai pastori. È ora di tornare fuori con le vacche e le greggi. Ora basta con la stupida vergogna italica di essere pastori cafoni. È una vergogna che fa il gioco della grande produzione del nord. Più ammanigliata con il potere. Carmelina, la figlia femmina, serve a tavola e racconta. Da bambina ho odiato la transumanza. Mio padre non c'era mai. Piangevo a ogni partenza della mandria. Poi, con il tempo, l'odio è diventato amore. Non sapete cosa significhi vedere uscire 500 mucche nel polverone, tutte smaniose di andare. Ti viene da piangere. Si commuove e la commozione la rende bella come la luna. È tutto così evidente. La forza di queste terre è donna. Quando arriva il momento, racconta, le nostre vacche non le tiene nessuno. Stanno sempre fuori. Sono allenate a camminare. Per loro il trasferimento è un richiamo irresistibile. Una gioia. Il medico Beppe Battista ha seguito i colantuono in un memorabile ritorno dai pascoli del Gargano e non può dimenticare. Dopo un viaggio simile, dice, hai revisioni. Sogni, senti, vedi. Tutto in modo diverso. Quando sono tornato non ho guidato l'automobile per settimane. Non sopportavo la tv, nemmeno il mio letto. È incredibile essere nella mandria, con le vacche anziane che sanno già il percorso a memoria e fanno strada. È le giovani che vanno dietro, un po' spaesate, ma mansuete nel farsi condurre. Un concerto di campanacci che diventa musica. Ti crea dipendenza e non ti abbandona mai più. Ricorda metro per metro la strada, percorsa in soli quattro giorni, quasi sempre di notte. Il brivido della partenza, Nicola Colantuono che si incammina davanti, da solo, con il passo millenario di Abramo, corto, ancheggiante e regolare. Il ponte sul fiume Fortore e la lapide in latino con le tariffe del pedaggio, dal quale sono esenti, per decreto imperiale, solo i preti e le puttane. Il torrente tona, Santa Croce Magliano, Femmina Morta, Ripa di Mosani, la taverna di Torella, le chiesette tratturali, che un tempo erano attrezzate con una locanda per le soste, come gli autogrill di oggi. Poi l'arrivo, con le donne che venivano dal paese con il primo cibo caldo. Ripartiamo a malincuore, ci sentiamo già di famiglia. L'auto prende istintivamente la direzione degli armenti, cerca il suo tratturo verso gli spazi aperti del tavoliere. Viaggia nella pioggia fine in mezzo ai pascoli, faggeti, sicolari e una sorprendente svizzera terrona che digrada verso Puglia e Basilicata. Finché a Torella, in cima a un colle poco prima di Campobasso, incontra un altro pastore speciale, Mario Borraco, 44 anni, campano giramondo dai mille mestieri, ex istruttore di volo libero in California, che a 40 anni ha deciso di mettere radici e tornare alla terra di casa sua. Un altro eroe della resistenza dimenticata. Usciamo nella pioggia fine assieme al gregge. L'apertura della stalla è come la rottura di una diga. Poi tutto prosegue in silenzio. È indescrivibile l'andatura felpata di una massa animale che si sposta sui campi bagnati. Le bestie non belano e tu ti trovi in un fiume che fruscia, si imbottiglia, devia, si sparpaglia, si rinserra, dilaga nelle praterie e nel fango, mentre i cani, attentissimi, incanalano quella massa fluida e calda nella direzione voluta. Con la neve, mi garantisce Mario il pastore volante, il silenzio è ancora più perfetto. E tutto ha lo stesso colore bianco? Latte. Le pecore, i cani, il cielo e le campagne. Nella stalla, accanto ai formaggi, dormono una decina di deltaplani, chiusi nella custodia. Poco in là, insieme agli agnelli neonati, sbadiglia il vecchio border colli Wisp, grande organizzatore di greggi. Può permettersi di poltrire, dopo una carriera di 40.000 km, lunga come il giro del mondo. È quasi cieco, ma corre dal padrone, risponde ancora ai comandi, parte, si blocca, ruota su se stesso come un cavallo limpizzano. Torna indietro. Questo brigante ha seminato figlio ovunque, si commuove il pastore. Wisp, che bel nome, andrebbe bene anche il mio trabiccolo di lungo corso. L'Appennino è il luogo della pecora. Forse è esso stesso un gregge. Dalla Toscana al Gargano, l'andatura lenta e belante della montagna è quella. Una terra paziente di animali, fatta per gli animali. Anche in mezzo alle colline ocra del Basso Senese, a due passi dai vignaioli miliardari di Montalcino, in una verde collina accanto a Torrenieri, c'è chi ancora si ammazza di fatica con le pecore e le capre. Tamara Amadì e sua figlia, restauratrice, lì da sole ad accudire le bestie. Le ho davanti agli occhi. Mani ruvide, voce morbida, sorriso dolce e un'amitezza immensa nel paesaggio al tramonto. Sotto un enorme ombrello dal manico di legno, Mario ci porta a recuperare Ethan, un giovane californiano che gli guarda le bestie ed è venuto a lavorare part-time per il piacere di stare in Italia. Poi mi mostra come si fa il caciocavallo e come assistere a un parto. La creatura bagnata esce dalle acque tiepide, viene manipolata a fatica, il casaro fa da balia, tiene gli occhi chiusi per la concentrazione. Fuori, nella pioggia, il Molise è tutto un gregge in movimento. Quando cala l'usole e ci tocca ripartire, Borraco saluta mio figlio Andrea come se lo conoscesse da una vita. A un pastore in partenza si diceva, t'accompagno co' pensiero. Bene Andrea, te lo dico anch'io, t'accompagno co' pensiero. Grande anima del sud.